rifiuti il centro di pesaro si prepara ai cassonetti intelligenti cibi avariati nei locali vicino alla stazione una denuncia e 30 multe sei querce frenano i lavori in strada carloni perdite d'acqua che durano giorni le segnalazioni a rossini tv opportunità di lavoro parte il corso per diventare os buonasera benvenuti al nostro telegiornale oggi è giovedì 20 ottobre apriamo questa edizione occupandoci della nuova modalità di raccolta differenziata che partirà nel centro storico di pesaro a partire dal prossimo lunedì cassonetti intelligenti che sono già stati posizionati da alcuni giorni con circa 900 utenti coinvolti in questa nuova procedura che andiamo ad approfondire in questo primo servizio è partito il conto alla rovescia da lunedì 24 ottobre per alcuni residenti del centro storico non ci sarà più il porta a porta per il ritiro dei rifiuti per la raccolta differenziata ma dovranno depositare i loro rifiuti nel nuovo sistema di cassonetti intelligenti collocati in sei aree del centro storico la nuova modalità di raccolta sarà una sperimentazione che coinvolgerà per adesso i 900 residenti nella ztl compresa tra via 11 febbraio via gramsci e via san francesco il passaggio alle isole ecologiche intelligenti è il primo passo del progetto di rinnovo del sistema di raccolta dei rifiuti all'interno del centro storico deciso dall'amministrazione comunale da marche multiservizi l'obiettivo è quello di migliorare la separazione dei rifiuti e recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili in questi giorni sono stati diversi gli incontri organizzati da comune marche multiservizi per consegnare ai residenti la carta smeraldo una tessera magnetica che consentirà di conferire all'interno dei cassonetti gli appositi rifiuti ad ogni famiglia verranno consegnate due carte e per chi ancora non l'avesse ritirata c'è tempo fino a sabato 22 ottobre entro le ore 13 recandosi a palazzo gradari in questi incontri non sono mancati i dubbi e le perplessità di alcuni cittadini che dalla prossima settimana dovranno cambiare le proprie abitudini per lo smaltimento dei rifiuti dal 24 al 29 di ottobre dalle 3 al 5 di novembre marche multiservizi ha organizzato due iniziative infatti saranno presenti degli ispettori ambientali in piazza del popolo in quelle date per cercare di spiegare ai cittadini residenti nelle zone coinvolte sul corretto utilizzo delle nuove isole ecologiche un concreto supporto verrà fornito ai cittadini non solo dagli infopoint ma anche dagli informatori ambientali che si sposteranno in maniera itinerante fra le sei aree del centro tra le preoccupazioni dei residenti non legate all'efficacia o meno del nuovo sistema di raccolta c'è anche quella della perdita di alcuni parcheggi eliminati per il posizionamento dei cassonetti intelligenti l'assessore belloni però ha fatto chiarezza rassicurando i cittadini che a breve saranno disegnati nuovi posti auto di cui sei verranno realizzati a fianco della palestra carducci sei in cima a via buozzi e sei nella parallela di via leopardi per i residenti seguire la buona pratica della raccolta differenziata gioverà per due motivi uno contribuire alla qualità della vita urbana e due essere premiati come cittadini virtuosi per aver svolto una corretta suddivisione dei rifiuti questo premio dal valore simbolico consiste in un buono spesa di 30 euro e sarà possibile riceverlo dal momento in cui si decide di applicare sui propri sacchetti un'etichetta identificativa negli ultimi due mesi la polizia locale ha avviato un'azione di controllo approfondito sugli esercizi commerciali multietnici limitrofi alla stazione ferroviaria di pesaro controlli che hanno scoperto come la proprietaria di un mini market conservava alimenti di origine animale e vegetale in avanzato stato di scongelamento contravenendo al rispetto della catena del freddo e con potenziali pericoli per la salute degli acquirenti gli alimenti ed i congelatori sono stati posti sotto sequestro impedendo di fatto la prosecuzione dell'attività di vendita sono state controllate anche alcune attività di barbiere e parrucchiere dove sono stati riscontrati problemi igienici ed amministrativi che hanno indotto le autorità a sospendere l'attività i controlli hanno portato ad elevare 30 molte e i negozi rimarranno chiusi fino a quando non si saranno messi in regola furto al centro commerciale globo in zona torraccia di pesaro i carabinieri hanno arrestato per furto aggravato una coppia di moldavi che stava rubando capi di vestiario frantumando le plache antiche taccheggio all'interno dei camerini per poi nascondere gli indumenti e dileguarsi il sistema di sorveglianza ha comunque attivato l'allarme al loro passaggio in quanto la direzione del globo aveva inserito una seconda placca antitaccheggio sfuggita ai ladri i due moldavi risultano essere senza fissa dimora e sono stati colti in flagrante con merce rubata del valore di 300 euro ed ora cambiamo argomento perché sono partiti venerdì scorso i quattro mesi di chiusura di strada Carloni per realizzare la nuova interquartieri di muraglia lavori che da qualche giorno convivono con un presidio ambientalista che sta dando battaglia a difesa delle querce secolari che si trovano nel tracciato del cantiere sesto giorno di chiusura al traffico di strada Carloni sesto giorno di quattro mesi in cui sarà interrotto il collegamento rapido fra il quartiere di muraglia e quello di celletta per la realizzazione da parte di società autostrade della nuova circonvallazione che di fatto completerà l'anello dell'interquartieri cittadina questi primi quattro giorni feriali di chiusura della strada convivevano con il timore di un intasamento di traffico nelle strade più residenziali come via Flaminia e via Fratti qualche congestione di autovetture in più c'è stata ma disagi di fatto contenuti per la chiusura di strada Carloni che fine a metà novembre sarà chiusa solo nel tratto compreso con l'intersezione fra via Pantano e via Giorgi dopo giorni dedicati all'allestimento del cantiere le ruspe hanno cominciato i lavori soltanto ieri e da subito hanno dovuto convivere con un'altra criticità quella relativa al taglio di sei querce secolari che si troverebbero sul percorso dei lavori di società autostrade e dunque destinate a un abbattimento tagli contro i quali in una settimana si è formato un comitato di cittadini ci sono un paio di striscioni che lo ricordano costantemente e si stanno susseguendo presidi a difesa degli alberi non solo c'è anche una petizione online vicina a raggiungere le mille firme e il comitato è stato pure sostenuto dal circolo pesarese di lega ambiente che ha presentato un esposto contro l'abbattimento inoltrandolo al nucleo operativo ecologico dei carabinieri di ancona e carabinieri forestali di pesaro enti che stanno già effettuando sopra luoghi e controlli una salvaguarda di alberi che ieri è arrivata anche su un tavolo di confronto fra comitato e comune si sta cercando infatti una mediazione con società autostrade che ha presentato un'alternativa all'abbattimento che prevede uno scavalcamento delle radici soluzione che però non piace al comitato che sta proponendo ulteriori alternative gli alberi dunque vivono ora una situazione di stand by con una decisione che verrà presa nei prossimi due giorni per non tardare oltremodo il cantiere e dunque si aspettano le prossime ore per capire se l'esigenza infrastrutturale riuscirà a convivere con l'esigenza di tutela del verde ed ora andiamo con lo spazio alle vostre segnalazioni le immagini che vi mostriamo ora documentano una grossa perdita d'acqua nel quartiere di santa veneranda in via montani a segnalarci il problema a quattro giorni di distanza dal guasto alle tubature sono stati alcuni residenti che dopo aver contattato lunedì marche multiservizi hanno riferito che la perdita d'acqua oggi non è ancora stata sistemata lunedì scorso l'azienda aveva posizionato un cartello che presentava un numero telefonico non più in funzione e la scritta stiamo provvedendo nel corso dei giorni il guasto è vistosamente peggiorato provocando disagi lungo tutta la via nel corso degli ultimi anni in via montani ci sono stati diversi interventi alle tubature da parte di marche e molti servizi che ha detta dei residenti non è riuscita a risolvere il problema alla radice visto che il guasto si è ripetuto per l'ennesima volta contattata marche e molti servizi l'azienda ha comunicato che in questi giorni ha avuto interventi più urgenti ma che nella giornata di domani provvederà a risolvere il guasto e allora domani andremo a verificare se effettivamente questo questa problematica verrà risolta e poi chiaramente vi daremo notizia nel telegiornale di domani sera l'assessore regionale alla sanità filippo salta martini ha annunciato oggi che lo sportello cup e informazioni della casa della salute di valle foglia verrà potenziato rimanendo aperto anche il sabato mattina rispondendo così alle richieste dei tanti cittadini caldeggiate dall'amministrazione del sindaco cucchielli e dai consiglieri regionali baiocchi serfilippi e cancellieri il servizio partirà il 29 ottobre e sarà attivo dalle 8 alle 13 ed ora andiamo a parlare di alcune opportunità di lavoro in un settore della sanità che sta vivendo una cronica carenza di personale infatti parte un interessante corso per diventare operatore socio sanitario ve lo illustriamo in questo prossimo servizio il consorzio formacop della regione marche aperto le iscrizioni al corso di qualifica professionale per diventare operatore socio sanitario più comunemente conosciuto come os un percorso formativo destinato a 30 allievi uomini e donne occupati e disoccupati che consente di essere competente sia nel settore sociale che in quello sanitario il corso inizierà a dicembre 2022 ed è composto da 1010 ore di cui 550 dedicate a lezioni teoriche pratiche in presenza 450 di tirocinio e 10 di esami la didattica avrà luogo a pesaro con sede ancora da definire per circa quattro ore giornaliere serali mentre lo stagio sarà effettuato presso strutture socio sanitarie con la supervisione di un tutor la frequentazione del corso è obbligatoria e non saranno ammessi all'esame finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze del 10 per cento delle ore totali per potersi iscrivere richiesto il compimento del 17esimo anno di età alla data di iscrizione quindi entro il 25 novembre 2022 ed essere in possesso del diploma di scuola dell'obbligo o assolvimento dell'obbligo scolastico le domande di iscrizione sono disponibili presso la sede di cometa pesaro in via degli abeti 120 o sul sito www.formacopmarc.org la selezione per la missione al corso nel caso in cui ci fossero più di 30 domande consisterà in un test scritto psicoattitudinale e di cultura generale a risposta multipla e chi lo supererà accederà ad un colloquio orale la quota di partecipazione all'intervento formativo sarà di 2300 euro a persona capire come funziona un comune un consiglio comunale una delibera o una mozione materie che finiscono nel programma scolastico di 550 studenti pesaresi che parteciperanno al secondo progetto di educazione civica organizzato dal comune di pesaro intitolato ti presento un comune è ripartito ti presento il comune la scorsa settimana sono state alcune classi del liceo mamiani ad inaugurare la seconda edizione del progetto educativo didattico promosso dalla presidenza del consiglio comunale primi studenti di oltre 550 che in questo anno scolastico aggiungeranno al loro programma una proficua aggiunta di educazione civica comprendendo come funziona un'amministrazione pubblica e un consiglio comunale ti presento il comune è un'iniziativa della presidenza del consiglio comunale a cui tengo tantissimo che ha avuto la sua prima edizione nel 2021 2022 anno scolastico in cui abbiamo coinvolto oltre 556 studentesse studenti delle scuole elementari medie e superiori 28 classi che si sono alternate in un grande processo di partecipazione conoscenza formazione che ha consentito ai ragazzi e le ragazze di fare una simulazione della sala consigliare comprendere i processi decisionali capire quali sono i ruoli del presidente del consiglio del sindaco della giunta di un consigliere come diventare consigliere e tutto questo l'abbiamo voluto riproporre anche per questo nuovo anno scolastico aggiungiamo anche che ci sarà la possibilità da quest'anno anche per coloro che hanno partecipato a questi momenti di formazione e conoscenza di poter fare l'alternanza scuola lavoro quello che era l'alternanza scuola lavoro ovvero la pcto un altro momento dedicato ai ragazzi e le ragazze che potranno seguire in circa 20 25 ore il processo di convocazione del consiglio comunale partecipare alle commissioni agli uffici di presidenza e chiaramente alle sedute del consiglio comunale una grande una grande iniziativa che in tanto tempo era non era stata strutturata che ho voluto strutturare per poter definire meglio insomma quali sono le competenze spiegare bene quali sono i processi decisionali e far conoscere bene quali sono i ruoli della città che amministriamo le foto che vi mostriamo ora documentano la visita a cagli di questa mattina del presidente della regione francesco acquaroli e dell'assessore regionale alla protezione civile stefano aguzzi che hanno incontrato i sindaci dei comuni alluvionati di cantiano frontone serra santabondio acqua lagna e la stessa cagli un tavolo di confronto per studiare nuove strategie di supporto alle urgenze dei comuni in questione proprio il comune di cantiano aveva richiesto alla protezione civile un affiancamento tecnico ed amministrativo degli organi comunali nelle complesse fasi post emergenza che si stanno affrontando nelle operazioni di censimento danni messa in sicurezza progetti e sopralluoghi tecnici necessari in un territorio flagellato dall'alluvione grazie anche alla collaborazione del lanci ieri hanno così preso servizio presso il municipio tre nuovi professionisti amministrativi e tecnici provenienti dalla protezione civile di roma che supporteranno l'ufficio del sindaco piccini dopo il successo dell'edizione 2021 di disco diva il comitato organizzatore del festival musicale di gabice mare ha devoluto oggi 1500 euro alla croce rossa di pesaro per il progetto angeli con le pinne che permetterà a tutti i cittadini e turisti di avere un ulteriore controllo in mare grazie ad un mezzo di soccorso nautico per l'estate e vi ricordiamo che questa sera alle ore 21 al teatro sperimentale si alzerà il sipario sul primo degli otto spettacoli in concorso alla 75esima edizione del festival nazionale d'arte drammatica gad ad esibirsi questa sera sarà la compagnia dell'orso di lonigo in provincia di vicenza che proporrà trappola per un uomo solo di robert thomas domani alle 21 il secondo spettacolo in concorso sarà quello della compagnia dell'eclissi di salerno che proporrà l'acquario di claudio grattacaso e continuiamo a parlare di appuntamenti appuntamenti di cui rossine tv e media partner così come il gad e così come quello che ci sarà domenica 23 ottobre a villa matarazzo di gradara dove verrà ospitata l'annuale appuntamento di divulgazione medico scientifica organizzato dall'associazione di conf commercio 50 e più e terziario donna in collaborazione con stella scarpa l'appuntamento di domenica sarà infatti dedicato alla medicina personalizzata torna l'appuntamento annuale con i convegni di divulgazione medico scientifica organizzati da 50 e più di conf commercio con la collaborazione di terziario donna e di stella scarpa attraverso la start up sm eu formula dopo l'interesse riscosso dei precedenti convegni come fermare il tempo medicina di genere benessere in menopausa e in andropausa quest'anno si parlerà di medicina personalizzata la nuova sfida della ricerca e della terapia che prevede trattamenti diversi per la stessa malattia in base alla genetica del singolo paziente un appuntamento fissato per domenica 23 ottobre a villa matarazzo di gradara a partire dalle 9 30 questo convegno si inserisce in un flusso di attività che 50 e più che un sistema associativo di servizi legati a conf commercio un flusso di attività dicevo che viene fatta da tanti anni nell'ambito della formazione medico scientifica a favore dei propri associati che fanno parte nel mondo della terza età 50 e più si occupa non solo di attività relative alle pensioni o attività relative allo svolgimento dei servizi fiscali ma appunto ha anche un ambito che si occupa del benessere della persona in questo ambito questo convegno del 23 ottobre si inserisce come sempre lo facciamo in collaborazione con terterio donna e con stella scarpa con cui collaboriamo da anni e abbiamo capito che sono tematiche particolarmente interessanti e molto gradite ai nostri associati che facendo parte della silver generation sono particolarmente sensibili a tutto quello che riguarda la salute. La medicina personalizzata mette al centro il paziente e non la patologia questa è la cosa più importante e i benefici che si possono avere dalla medicina personalizzata sono che aumenta la possibilità di guarire più facilmente e soprattutto anche nelle malattie più gravi diciamo la medicina personalizzata riesce ad avere dei buoni risultati terziario donna conf commercio che la struttura e l'organizzazione che si occupa delle imprenditrici con commercio della nostra provincia tiene molto alle sue imprenditrici le vuole in buona salute e anche quest'anno abbiamo organizzato appunto questo bellissimo convegno che parla di medicina personalizzata inviteremo i padri della medicina personalizzata che sono il professor minelli mauro minelli e il professor maurizio san maco e che hanno fondato già dieci anni fa la fondazione medicina personalizzata la medicina personalizzata è un nuovo paradigma nei confronti proprio della sanità e della presa in carico dell'utente in base proprio alla patologia quindi mettiamo finalmente l'uomo al centro e di conseguenza il paziente al centro ecco perché il nostro focus è proprio quello di creare anche come associazione di categoria quindi in qualità di associazionismo proprio il la messa in luce della della persona e ovviamente seguendolo anche da punto di vista imprenditoriale in questo convegno sono coinvolta personalmente sia in qualità di presidente di categoria del gruppo bellezza salute benessere ma anche proprio come titolare di una società che si chiama sm o formula che una start up innovativa che ha come per oggetto proprio un brevetto un brevetto esclusivo un brevetto molto particolare che proprio riguarda un'apparecchiatura elettromedicale a sostegno proprio del mettere a punto un funnel di trattamenti di rimessa in forma funzionale proprio in visione della personalizzazione rispetto al periodo ormonale dell'utente e sul stato infiammatorio un po quello che proprio fa la medicina personalizzata l'ho messo a punto questo brevetto insieme a marilena pomante mia socia all'interno della società sm formula ma anche insieme al primario dell'ospedale di macerata dottor mauro cirilli chirurgo vascolare e medico estetico siamo tre quindi gli inventori di questa bellissima innovazione che poi stesso lui presenterà durante durante il convegno come relatore relatori che saranno arricchiti anche dalla presenza della dottoressa maddalena fratelli ricercatrice dell'istituto mario negri e del dottor davide schembri esperto di nutrizione in condizioni patologiche sarà una grande occasione di apprendimento medico scientifico ad ingresso libero come sarà gratuito l'incontro conviviale al termine del convegno per il quale è sufficiente la prenotazione questo è l'ultimo di una serie di eventi creati proprio insieme a due persone speciali che vorrei ringraziare per avermi sempre coinvolta in tutti questi anni che sono il presidente di 50 e più alberto dolci e la presidente di tercera donna conf commercio patrizia caimi è sempre bello dare continuità ad un aspetto così importante che è proprio la messa in luce del della scientificità proprio a livello territoriale ed ora andiamo a parlare di teatro perché il teatro rossini e il teatro sperimentale sono pronti ad alzare il sipario sulla stagione di danza 2022 2023 promossa chiaramente da amat e allora vediamo il programma che partirà proprio nel mese di novembre inizieremo il 6 novembre con utel emper che inseguiamo da una decina d'anni che la insomma la regina del teatro canzone internazionale e invece ad apertura di 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 danza il 20 di novembre avremo saburo teshigawara che è un grandissimo coreografo giapponese quest'anno leone d'oro alla biennale di venezia e quindi apriremo davvero nel segno della grande danza internazionale un appuntamento davvero di grande forza con lui lui sarà in scena con un tristano isotta una versione naturalmente in danza con la sua danza una danza contemporanea una danza molto innovativa che lui stesso ha inventato per questo insomma la sua la sua grandezza proseguiamo con una compagnia siciliana che è quella di di roberto zappalà centro coreografico nazionale patria è l'occasione di riflettere in termini anche civili in qualche modo attraverso la danza su quelli che sono le i nostri i nostri vezi di italiani i nostri vizi devo dire un spettacolo molto forte di grande energia riscaldato proprio dal calore dal calore siciliano della compagnia proseguiamo con una residenza di allestimento e quindi un'altra delle vocazioni della della città di pesaro perché anche appunto luogo di preparazione di spettacoli con il collettivo mine che presenta un lavoro molto interessante su base tecno quindi cambiamo lasciamo il neoclassico per un lavoro con una fisicità ancora ancora più forte e poi ospitiamo uno strano balletto contemporaneo con un tema molto affascinante dal film di danish girl e quindi una transizione in qualche modo da 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 uomo a donna all'interno di una coppia però molto solida che continua a esserlo anche dopo la trasformazione diciamo dell'elemento maschile della coppia è lilly elber show con dei grandi danzatori capitanati da silvia zoni che è una delle nostre etual più importanti a livello internazionale e chiudiamo con la compagnia privata più privata diciamo non legata alla fondazione lirica che è la ter balletto che presenta il suo storie quattro storie intrecciate per una compagnia davvero tra le più importanti d'italia questa nuova rassegna di danza contemporanea con un'offerta è molto molto innovativa e anche dal punto di vista delle coreografie anche dalla presentazione proprio sul palco di di una forma di arte secondo me molto molto innovative e ci sono all'interno della nostra commissione delle degli insegnanti che hanno chiesto anche di svilupparlo a livello educativo nelle scuole soprattutto superiori con anche con delle attività mattutine proprio per portare l'istruzione all'interno del teatro all'interno della della conoscenza diciamo culturale e di tutta l'offerta l'ottima offerta che ama sta offrendo sul sul panorama cittadino concludiamo questa edizione con una notizia di sport dopo la pesante sconfitta per 5 a 0 a rimini ieri è arrivato un altro ko per la vispesaro che nel turno infrasettimanale di campionato ha perso 1 a 0 al benelli con la lucchese a decidere il match un micidiale contropiede dei toscani che al 73 esimo ha portato al gol visconti approfittando di una palla persa del vissino fedato sconfitta probabilmente immeritata per una vis che ora scivola in classifica all'undicesimo posto e che domenica avrà un altro appuntamento allo stadio benelli alle 14 30 contro i piemontesi dell'alessandria e continuiamo a parlare di sport questa sera su rossini tv perché come sapete torna insieme a canestro ma prima subito dopo questa edizione delle 19 40 alle 20 10 vedrete l'inaugurazione della mostra cagli e federico tra documenti d'archivio dipinti di giovanni santi una mostra che avrete poi la possibilità di andare a scoprire direttamente a cagli fino al 30 novembre e allora al via la prima puntata di insieme a canestro manca pochissimi mancano pochissime ore alle 21 20 per godervi di questa prima puntata dove gli ospiti sono matteo tambone che è playmaker della vl ed elisabetta ferri giornalista e massima esperta del della carpegna prosciutto basket pesaro vedete il nostro marco cadedu che è pronto insieme a giovanni e zida a leggere i vostri commenti in diretta quindi utilizzate questo numero di whatsapp per scriverci commenti domande insomma quello che volete oppure potete utilizzare anche la nostra diretta facebook quindi sotto la diretta facebook scriverci le vostre domande domani invece torna la rassegna stampa con voi ci sarà daniele sacchi puntuale alle 7 20 io vi auguro una buona serata in compagnia di rossini tv l'appuntamento con l'informazione appunto torna domani mattina alle 7 20 scusami tanto sai mi è un'emergenza non ti dico una catastrofe calma misiediti che adesso ti porto un bel pittino d'acqua lascia stare le mie cose non toccorre le mie cose sai che sono fissato per l'ordine guarda faccio fida di non aver sentito anzi per favore rimangati immediatamente quello che non dirmi che una trentenne disponibile ammaliata dal tuo fascino di spettone favorito non ti faccio a gola quanti se ne hai portati a letto margherita beh io potrei farti almeno una leccina di doni e il povero buffettone avanti e indietro avanti e indietro tutto sudato e se prego qui lo so io la posso apprezzo allora buffettone il tuo libro a te inventa non frega niente di nessuno tu ami solo te stesso i tuoi libri e la tua fama la tua magnanimità altro non è che un becero espediente per mascherare la tua indifferenza Ponzio Bibbato sei altro che Salomone e questo lo sai anche tu come si chiamava quella donna quella cavalluna contesta e eufrasia per tramite la corte da Mariano ma sappiate che chi giudica me giudica anche voi e se si dice che Bargherita è una ninfomane non è bello neanche quello che si vocifera su voi due Elio prima che Sandro vada via in abicizia vorrei che tu gli dicessi come lo pianiamo e poi scusa che significa il preparato ma li avete letti o no i miei libri come ragazzi ci manca lei tutti tutti ditemi qualche titolo io non ci posso credere non è questione di crederci caro è questione riderci 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 e poi vado al mio maledetto lavoro eh vedo solo gente malata solo gente malata e non mi fa bene mi deprime capisci mi deprime Elio e anche tu oggi che stai così eh Non mi basta. Tu, essere meschino, che hai la tua famiglia ancora con i tuoi genitori, sfruttando le loro rendine, e fai il galletto hamburghese con ogni sottospecie di femmine che ti capiti a Dio, tu, tu vieni a fare la morale a me, tu. E io ti confesso una cosa. Ho pregato San Francesco di Sales, come ben sai, il protettore degli scrittori, che non ti facesse vincere lo strega. Hai sempre finto ogni mattina di andare al lavoro. Non ho avuto il coraggio di dire la verità. E ti rifugiavi a casa della morandina a piangere e a farti consolare. Dica che lei è stata l'unica a capire il mio grano. E tu ora la ringrazi a suoi frustate perenne perpetuarsi della cattiveria. Infatti, una barahonda senza sedi. Dove ti posso? Dove? Che ne so io? Non fumo. Ehi, buona! Sperato, bambino, fatta molta bubù? L'editore, eh? Cazzi miei! Sassuera, 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 sassuera.